Nel reality show Grande Fratello si è verificata una situazione piuttosto tesa e delicata. Dopo eventi gravi che hanno avuto luogo recentemente, c'è stata una notizia sconcertante riguardante Heidi. Ma prima di entrare nel dettaglio, ti invito a iscriverti al nostro canale, lasciare un like e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. La tensione all'interno della casa del Grande Fratello ha raggiunto livelli insostenibili in particolare dopo l'uscita di Heidi. Un protagonista centrale di questa vicenda è Massimiliano Varrese. Oltre ad essere profondamente toccato dall'uscita di Heidi, è anche al centro di pesanti accuse. Dopo un confronto acceso con il padre di Heidi, Varrese ha deciso di non rimanere in silenzio. Egli ha dichiarato che le accuse rivolte a lui sono gravi e sembra determinato a difendere la sua onorabilità, tanto da coinvolgere persino i suoi avvocati. La tensione all'interno della casa del Grande Fratello ha raggiunto livelli insostenibili, in particolare dopo l'uscita di Heidi. Un protagonista centrale di questa vicenda è Massimiliano Varrese. Oltre ad essere profondamente toccato dall'uscita di Heidi, è anche al centro di pesanti accuse. Dopo un confronto acceso con il padre di Heidi, Varrese ha deciso di non rimanere in silenzio. Egli ha dichiarato che le accuse rivolte a lui sono gravi e sembra determinato a difendere la sua onorabilità, tanto da coinvolgere persino i suoi avvocati. Tutto è iniziato quando il padre di Heidi ha lanciato accuse contro Varrese, suscitando l'indignazione di molti spettatori. Beatrice Luzzi, una delle partecipanti, ha espresso la sua disapprovazione verso l'atteggiamento del padre di Heidi, sottolineando come sembri un ritorno a mentalità vecchie di 50 anni. Anche se Varrese ha respinto le accuse, sembra che non intenda fermarsi qui. Secondo alcune fonti, potrebbe arrivare a denunciare il padre di Heidi per diffamazione, portando la questione fuori dalla TV e davanti a un tribunale. Attualmente non è chiaro quale sarà il futuro di Varrese all'interno del programma, ma è evidente che è determinato a lottare per ripristinare la sua reputazione. La situazione è in continuo cambiamento e nonostante l'esito, una cosa è chiara. Il grande fratello non sarà più lo stesso dopo questo scandalo. Concludendo, ti invitiamo a lasciare un tuo commento su questa situazione e a seguirci per ulteriori aggiornamenti. Grazie per la tua attenzione e ci vediamo presto con un nuovo video. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime notizie.